non si sa mai allora leggevo prima in chat che c'era qualcuno che si chiedeva come farò questo grassmaster non sarà tranquilli, cioè non tranquilli, non faccio una puntata come una puntata appunto perché come vi ho detto prima in una puntata mi devo preparare prima devo fare un sacco di cose, comunque faccio un sacco di tagli a volte capita che rifaccio il video da capo quindi no, è proprio impossibile farla in live ci divertiamo a usare i mezzi però pensavo di non fare un episodio anche perché non so se ne sarei capace ok, allora cosa pensi degli obiettivi per Canon Nikon Yongnuo? la marca che fa anche faretti led? insomma Yongnuo è Yongnuo io ho uno Yongnuo qua che mi sta illuminando in questo momento questo è uno Yongnuo lol questo è uno Yongnuo il fatto che appunto lascia gli fare i faretti economici le lenti sono più importanti della camera in sé uno dovrebbe investire più negli obiettivi che nella macchina fotografica quindi cioè, se proprio non hai bisogno è che mi dici ho rotto l'altro devo comprare per continuare ad usarla la reflex devo però altrimenti no no, assolutamente no ok per ora andiamo così ragazzi perché non ho voglia di attaccare il crossplay mi ha già fatto dannare abbastanza per la scorsa puntata ok ah ok avete finito? perfetto grazie mille agro quando cominci l'università? fra una settimana due di 25 ragazzi andiamo ancora a fare il trasloco un sacco di cose ehi ma sta maglietta riflette un po' male io non ho voglia di sistemare il green screen però mi green screen anche la ah probabilmente c'è talmente tanta luce che c'è vede il riflesso rosso è l'unica spiegazione che mi viene in me cioè è rosso vero ha fatto in pochissimo tempo le puntate di pro farming per me è come se l'avessi iniziato ieri pro farming pro farming cioè la serie l'ho iniziata tipo nel 2013 quindi ieri non proprio e farne poche no perché è la serie di farming simulator con più puntate di tutte youtube almeno youtube italia sicuro perché siamo io ho controllato l'altro giorno adesso siamo tipo a 380 e dipende quante ne facciamo ancora ma potremmo arrivare alle 400 come obiettivo quindi non lo so non lo so non lo so se intendi questa nuova stagione è già passato un anno e di puntate ne ho fatti 100 praticamente quindi non lo so porterei ancora video dopo il 25? non lo so non mi pre-registrerò nulla ok se avrò voglia di giocare giocherò ma vi dico già che io tipo il weekend sarò già via e solite cose quindi vogliamo una maglietta già dalla giampite ne ho di tutti i colori nell'armadio ma non voglio di cambiarmi magari per il prossimo break comunque appunto non è come poi quando sono andato in vacanza o cose del genere non aspettatevi che prepari dei video in anteprima cioè in anticipo che mi prepari dei video o cose del genere perché uno non ho tempo due non ho voglia perché per me è veramente un grande stress dover pre-registrare video è una cosa che odio perché come avete visto durante le vacanze sono video in cui non vi posso chiedere ehi voi cosa vorreste comprare perché probabilmente quel video uscirà dopo tre settimane quindi è inutile è una cosa che odio sinceramente e quindi se posso evito di pre-registrare in questo caso è anche una necessità quindi dal 25 potrebbe uscire qualcosina magari poi nel weekend pre-registro qualcosa nel weekend dopo adesso non ricordo se inizia ma è già ottobre quindi o no sì è già ottobre la domenica dopo mamma mia che roba che roba porterai profarmi stagione 8 dubito dubito non lo so ciao miro buona cena beato tu ok fai un video fai un video tuo fratello non ho molto ben capito Thomas immagino fosse con tuo fratello e nel caso comunque no non penso che sia interessato a fare un video con me ah ma se non fai più video di farming cosa ne sarà l'italian farm e l'ho già detto mille volte potrebbe essere che italian farm non ci sia mai in realtà italian farm mi è venuto in mente di cambiarla un pochino farla un po' come faccio grassmaster vi potrebbe piacere come idea secondo me è una bella idea non ci sono tante aziende da cui ho visto forse ce ne sono una o due però secondo me ci sta come idea non so ditemi voi però pensavo appunto aveva senso secondo me di farla in stile grassmaster e quindi e quindi sarebbe più fattibile perché così non abbiamo una storia da tenere dietro ho già i soldi mi compro ogni puntata quello che mi serve fine e posso anche fare una puntata al mese o al diicene apri il portellone dietro del team tanto ormai abbiamo finito il trinciato cioè non lo so cosa dite facciamo altro trinciato ragazzi quando inizierai l'ho detto prima al 25 ci vediamo ad un over ah ecco ragazzi agritecnica mi sono accorto che uno c'era della gente che doveva venire con me e qualcuno che era in forse che poi mi ha detto di no quindi mi ritroverei praticamente da solo su ad un over due mi sono accorto mi sono fatto un calcolo dei costi e è un po' troppo elevato quindi potrebbe essere che il progetto agritecnica lasci direttamente stare ed è uno dei motivi per cui non vedete qua sotto di me la scritta progetto agritecnica quanti soldi abbiamo raccolto tutto qui ok allora vediamo un po' cos'è che dite ragazzi basta trinciato dice casa più ah con ci sono trattori recenti che montano motori a V non penso nessuno ok qua abbiamo molti che dicono basta trinciato qualcuno che dice si fallo cioè non è che abbiamo molte alternative perché farei comunque cose che avete già visto quindi boh ditemi voi se no un'alternativa è vediamo un attimo dove aspettate forse qua no vediamo un po' se avevo messo non mi ricordo se avevo messo un autocaricante perché dovevo raccogliere ancora tutte le balle della seconda puntata qua vi sto facendo un sacco di spoiler però io girando così quindi magari evito di farvi dare le mod facciamo così ragazzi dov'è ecco qua e compriamo come trattore usa i JD vediamo un attimo vediamo se ho qualche John Deere da provare qualcosa che abbiamo già usato così evito di spoilerarvi robe mettiamo un 7530 dai facciamo l'azienda cos'era già l'azienda Allen l'azienda Allen che ha il 7530 fai balle tonde eh ma ragazzi vi ho detto appunto robe che abbiamo già fatto adesso finiamo il lavoro finiamo i lavori che avevamo già iniziato che devo ancora finire perché io appunto col fatto che ho iniziato questa serie quando dovevo pre-registrare per le vacanze io finivo un episodio e mollavo tutto lì cioè vendevo i mezzi direttamente per non averci lì quindi adesso vi faccio vedere la situazione del campo della terza puntata seconda e terza puntata Agro mi mandi la password del server di pro-farmi no è chiuso il server di pro-farmi non entra più nessuno anzi dovrei salvare anche il salvataggio dovrei scaricare il salvataggio un ford 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 ok scusa Agro che mappa è la colboro cioè se vai nella serie grassmaster nell'ultimo episodio quello che è uscito ieri vedi subito comunque appunto vi stavo dicendo vi stavo dicendo che questa è la situazione in cui lascio dopo ogni episodio cioè semplicemente registro quello che devo registrare spesso non finiscono spero di non avervi smontato il mito magari alcuni di voi pensavano che andassi avanti e raccogliersi tutto non è così secondo te sono meglio le balle rotonde o quadrate dipende dipende che cosa se sei un'azienda piccola di sicuro le tonde le quadrate hanno senso se ne fai il monte questa mappa questa mappa di confini è buggata non lo voglio sapere non ci ho provato non l'ho ancora visto peccato per la serie agro l'ho scoperto prima cosa quanto manca alla fine 12 ore c'è scritto Luca quindi qua sotto di me leggi 9 ore 40 quindi mancano 2 ore 20 minuti praticamente ma vedo ancora giocatori dentro sono i donatori che stanno finendo di sistemare i mezzi probabilmente tutto qui però appunto non faccio entrare più persone ah ma sono pieno ok hai visto la 990 di gaming evolve si l'ho vista in foto ho detto cavolo fosse arrivata prima con quella barra piccolina l'avrei usata volentieri al posto della 890 in versione nord america qua sulla ops sulla qua su questa serie qua sulla grassmaster cioè veramente qua dove è il fienile? la domanda è dove è il fienile? ah straw and bails immagino sia laggiù vediamo un po' c'è i luoghi no? c'è la selezione dei luoghi stazione di rifornimento recinto per suini legnaia pascolo campo 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 tantissimi campi viner safe store biogas straw and bails sarà straw and bails per forza andiamo di là agro del fencing guardato che cosa ne pensi scusa eh se non ti rispondo cioè rispondo così al volo prima o poi doveva uscire l'estetica non mi piace potevano riprogettarlo ha un senso per certi tipi di agricoltura in cui i cingoli vanno meglio delle ruote fine però scusa se ti ho risposto velocemente però c'è questa domanda me l'hanno già fatta tipo tre o quattro volte ormai ne abbiamo già parlato a lungo due o tre volte agro sai a chi hanno dato la penalità? no ragazzi lo scoprirò dopo hai visto che fanno il nuovo class action 960? sì ho visto quello terra ops mi è perso di capire che non fare più serie ma solo uno o due episodi al mese lavori? no Pietro inizio l'università e col fatto che sono fuori casa che comunque i miei sostengono perché youtube non mi permette di pagarmi un affitto quindi i miei mi sostengono ancora mi pagano loro l'affitto e mi sembra giusto impegnarmi al 100% nell'università avere meno distrazioni possibili quindi non mi porto sul fisso per giocare o cose del genere magari per Natale mi prenderò un portatile che ormai tanto portatile ce ne sono che vanno allo stesso livello di anzi anche di più di questo pc fisso che ho quindi magari prenderò un portatile del genere e comunque niente gaming quindi quando poi nel weekend torno a casa perché faccio la tratta Cuneo-Torino mi faccio lunedì-Venardi che ho le lezioni a Torino e poi venerdì sera sabato e domenica a Cuneo ah è laggiù dove si scappa e e quindi quando torno a casa poi magari registro qualcosa quindi dipende il discorso e mi piacerebbe anche fare un video ogni settimana almeno devo vedere non lo so non ho proprio idea degli impegni anche perché sto sentendo anche per qualche lavoro durante il weekend quindi potrebbe anche essere che durante la settimana studio non registro e durante il weekend al lavoro vedrò vedrò bello qualcosina in mente ce l'ho quindi vediamo perché i motori a V non vengono usati sui trattori non ho idea sinceramente non ho proprio idea non sono di meccanica agricola me ne intendo poco sinceramente come era già per aspettate devo vedere F1 annulla scaricamento scarica qui le balle con Y tac a a a a a cosa brutta che cosa ok è uscito un nuovo gnola nella realtà che io sappia no agro quali serie tv stai seguendo o stavi tantissime in realtà allora mi sto tenendo super trino perché ecco quella cosa me le concedo le serie tv me le concedo mi sto tenendo la terza stagione di narcos ancora da vedere poi devo ancora vedermi vabbè è uscito è uscito top gear la nuova stagione sto aspettando the grand tour che per chi non sapesse the grand tour è quello fatto da amazon con gli attori che una volta facevano cioè i presentatori che una volta facevano top gear ve lo consiglio perché è di gran lunga superiore al nuovo top gear comunque poi mi guardo anche il nuovo top gear perché in realtà sono essendo un po' appassionato comunque c'è una roba da guardare me lo guardo poi altre cose vabbè narcos l'ho già detto orange is the new black prendo tv showtime così te lo dico subito anzi prima scusate è l'entrata brutta brutta ma così prendo tv showtime e te le dico tutte perché io utilizzo un'app che non so se conoscete si chiama tv showtime appunto io non mi ricordo neanche dove l'ho fatto stup ah già ecco vedete questo bel mucchio ragazzi indovinate un po' quello lì era il rimorchio della terza puntata io ho venduto il rimorchio e mi sono cadute le balle direttamente lì letteralmente proprio mi sono cadute le balle comunque adesso prendo un attimo tv showtime e ti dico tutte le serie così voglio sentire anche voi perché sono sicuro che oltre alle mie su youtube c'è anche qualcuno di voi che tac vediamo un po' perfetto allora i miei che mi avvisano che sono fuori dal mondo dove vanno le visite ok allora ho guardato vabbè house of card black mirror tantissimo ogni tanto mi riguardano anche gli episodi sherlock ho scoperto quest'estate sherlock peccato per il fatto che fanno un episodio ogni morte di papa west coast custom e tra l'altro mi ha ammazzato non so se c'è qualcuno che lo sta guardando allarme spoiler tappatevi le orecchie se non avete visto l'ultima stagione in west coast custom avevano preso a lavorare Kenny che era tipo il vice era diventato il vice in officina del capo di west coast custom e poi di colpo neanche hanno fatto finire la stagione di colpo in metà della stagione spunta un secondo Kenny che pesa tipo 100 kg in più e al posto di essere il capo d'officina fa tipo il falegname così a caso e lui è il nuovo Kenny e scompare così il vecchio Kenny e poi sono andato a giocare su internet e praticamente si è messo in proprio cioè proprio nella realtà ha mollato west coast custom e si è messo in proprio comunque poi oltre a questo vabbè top gear l'ho già detto soliti griffin american dead simpson queste cose qua ncis ho seguito solo fino alla 22esima stagione che comunque è più avanti comunque sono praticamente in pali con quello che è andato sulla rai che cos'altro ho guardato shooter anche l'ho guardato bojek horseman orges the new black l'ho già detto silicon valley molto bello ho guardato 3% che tra l'altro breve dovrebbe uscire la nuova stagione designated survivor questo cos'è ah mister robot si anche è vero silicon valley l'ho già detto ah travelers anche molto molto figo how i meet your mother me la sono spurata tutta bellissima person finterest idem breaking bad già vista e poi i classici io li ho segnati perché le avevo vissi da bambino due fantagenitori e poi invece tutto reality me lo sono rivisto poco tempo fa bojek horseman si matteo però sono un po' indietro tutto qui trono di spade non mi prende ho già provato tre volte a distanza di mesi a guardarmi le prime due puntate e poi veramente mi addormento non mi viene voglia di guardarlo quindi molti mi hanno detto si ma migliora dopo ma io non ho voglia di perdere tempo cosa faccio passo subito è arrivato mustafa io quando ho scoperto che i presentatori dopo di ieri erano stati erano se ne erano andati sono quasi preso un infarto e poi ho scoperto The Grand Tour si tanta roba The Grand Tour cioè dispiace un po' perché ogni tanto devono si vede proprio che hanno le mani legate per motivi di copyright tipo per chi non lo sapesse in The Grand Tour fanno anche la cosa degli ospiti però si vede che probabilmente era coperta da copyright questa cosa qua quindi loro non possono far guidare le macchine agli ospiti quindi invitano gli ospiti ma li fanno morire cioè tipo li fanno investire mentre stanno arrivando allo studio e così via probabilmente per problemi appunto di di copyright o cos'è cioè adesso non so bene cos'è che è e quindi nada e quindi nada sono inventate cosa? Agro guardati l'attacco dei giganti e code chaos ah sono anime ah boh devo vederlo di anime c'era il mio fratello me l'aveva consigliato Death Note poi c'era uno che si chiama Psycho 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 e qualcos'altro e boh The Walking Dead devo vedermelo solo che non c'è su Netflix quindi dovrei andare in streaming illegale boh non lo so agro oggi fake train crops sì più tardi ti consiglio Better Call Saul ah sì 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 Better Call Saul l'ho visto tutto giusto forse non l'ho detto ma l'ho visto l'ho visto tutto tutte e tre le stagioni adesso sto aspettando la prossima anche se le sturo in un attimo e quindi sei contro mano giusto devo andare a sinistra no non ero contro mano prima o sì non l'ho visto da che parte stava ciao margherita alberizio anche se immagino che tu sia un ragazzo ah ha fatto la rin agro che ne pensi di Ed China che molla a fare a quattro ruote non l'ho mai seguito a fare a quattro ruote so che molti di voi lo seguivano io non l'ho mai seguito da quel che ho letto in giro si è fatto furbo semplicemente perché in realtà era lui cioè praticamente era lui la parte importante dello show avrà avuto i suoi buoni motivi o hanno avuto qualche battibecco o ha chiesto più soldi e non gliene è andati o si è fatto talmente di soldi che può fermarsi secondo me il discorso è che se si vuole aprire è un suo programma tutto suo penso immagino non lo so ciao ciao finalmente ce l'ho fatta ma ti lascerò molto presto perché domani ho un test e devo studiare ammazza già con i test ragazzi dai fatevi fare la giustifica ad agromoderni fai trinciato in kettle e non c'è ancora l'aggiornamento del trinciato da quanto ho detto hanno aggiunto la stessa stagione di The Walking Dead su Netflix l'avrebbero pubblicizzata tantissimo penso su Netflix usa cosa ne pensi di più il farm in 18 e hai qualche novità penso sia un bel gioco come principio bisogna vedere l'ottimizzazione dell'hardware e per quanto riguarda novità no non sono la aveva visto Teen Wolf mia madre ha visto Teen Wolf mentre stirava c'è stato un periodo che mentre stirava si faceva mi aveva fatto scaricare Teen Wolf e se lo guardava ops è una serie che adesso raramente si trova ancora che fin da piccolo sempre guardava amato e cobra 11 cobra 11 tanta roba tanta roba ti veniva da chiedere ma questi tedeschi scusa un attimo ma quanti soldi hanno per distruggere tutte queste macchine no però era molto bella si piaceva anche a me si da piccolo non mi ricordo mi pare che secondo me ci hanno addestrato tutti con cobra 11 perché una volta prima del telegiornale su Rai 2 c'erano i cartoni animati adesso invece adesso invece c'è dopo un po' hanno smesso quei cartoni animati hanno iniziato hanno iniziato a spammare cobra 11 praticamente hanno convertito tutti noi poverini bambini a cobra 11 adesso ci abbiamo cobra 11 qua oh si Semiragherkan Semiragherkan che si usa 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 cosa c'è now tv forse adesso c'è la per l'Italia c'è sky atlantic non ricordo ah però che mappa è la polboro se vai nell'ultimo episodio di grassmaster trovi in descrizione il link e no tanta roba cobra 11 esatto che poi cambiano il comincia che si non mi ricordo ma è Semir quello più bassetto lui rimane sempre quello più basso gli altri li cambiano così lui invece no questa è la mia vita la mia vita è far esplodere macchine con il rischio cioè noi siamo della stradale ma finiamo nei peggio rischi che ne pensi del pc che voglio comprare cpu amx 8300 mi immagino sia md 8300 8 core gtx 1050 ti ssd 250 gb ram 16 giga non male spero che però non ti tirino un prezzo superiore ai 1000 euro perché avendo roba amd dovrebbero fartela pagare di meno ssd è solo 256 giga che la carità io faccio lo youtuber mi piace la fotografia e tutto il resto quindi però io mi trovo allo stretto con un ssd da 250 più 2 tera di spazio più hard disk esterni quindi non lo so non lo so non lo so ma il nightbot è un nano cinese sfruttato 24 su 24 è una riga di codice il nightbot un ago cap è usato per le serie tv tv showtime si chiama e praticamente è molto carina perché ah tra l'altro sono contro ok ora contatore vabbè poi c'è tutte le funzioni social che io non ho mai usato tipo puoi mettere le votazioni alle puntate puoi scambiarti commenti puoi andare a vedere le gif fatte con le parti delle puntate puoi prendere già delle che ne so dei pezzetti delle citazioni direttamente da quell'episodio e se cos'è qua comunque lui c'è da quando faceva scuola mentre gli altri ogni stagione cambiano what aspetta io non comprendo comunque a penso tutti pietro non so cosa a cosa tutti riferisca se se ha il discorso dico bravo 11 se parlava di me aggo guardati malcolm in the middle malcolm in the middle lo guardavo quando ero più giovane sì mi ricordo mi ricordo una cosa che mi manca sono le come già robo non mi ricordo comunque le battaglie con i robot erano proprio bellissime non mi ricordo come si chiamava non ci credo adesso ci cobro 11 su raid 2 lol spam ragazzi in realtà ci hanno dato la mazzetta per dire per parlare di cobra 11 spam ragazzi in realtà ecco rimbalzato metti 149 per rovinare tutto è lol dopo grass master cosa c'è sergio c'è la programmazione in descrizione comunque c'è che torrent crops quanto siamo quasi dieci ore ragazzi solo più due ore una parte di me è molto contenta una parte di me decisamente contenta non vedo l'ora sono molto stanco molto molto stanco robo wars esatto grazie flavio dico se mirci da quando era giovane sì 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 dall'inizio della in realtà non penso di aver mai visto la prima puntata però al grosso tempo stanco da di 10 ore di live che abbastanza sono un po stancante più che altro dopo un po' ci sono alcune domande che la gente continua a dire tipo fend e terra italica e ma perché smetti di far video ero di muo contro ma vabbè voglio dire qualcosa ma non mi ricordo ah ecco no tipo per esempio mi è piaciuto il discorso delle serie ecco ditemi un po' voi che serie tv seguite così random che portatile prenderai mi chiede l'ora e nel mentre rispondo all'ora l'ora io prendo penso non so adesso sto guardando per un dell xps 15 che al momento perché mi piacerebbe prendere qualcosa in stile macbook no quindi in poco spazio grandi prestazioni solite cose il problema è che il macbook costa un rene soprattutto quelli nuovi che hanno alzato il prezzo tipo di 500 euro su ogni modello una roba pazzesca e i dell sono la cosa che si avvicinano di più costano anche loro ma perché hanno delle buone componenti tipo la 1050 che ha più ha più giga di scheda video dedicata rispetto alla mia 780 oppure il cpu i7 versione hq quindi con i core fisici e solite cose quindi ma il pc regge ma il pc si deve fare cioè in realtà farming è molto leggero rispetto ad altri giochi non so come mai lagga molto di meno tutto un boh sono contento io seguo don matteo davvero io davvero don matteo è da un bel po' che non lo vedo e visto che questa settimana c'è il nuovo aggiornamento di cat and crops con la transitura del maestro hanno già dato la data? cioè hanno già messo la data? me lo perdo proprio così? vabbè magari ci faccio un video prima di partire ah però io ho un lenovo ci dipende da che lenovo ci sono aggro ti faccio i complimenti per aver fatto una live di 12 ore sei da ammirare complimenti si vede che ci tieni tanto il tuo canale complimenti continua così e non mollare vai aggro ma dai grazie simone comunque non gufiamola perché qua siamo solo alla decima ora e 30 secondi quindi all'inizio non c'era simone sulla prima puntata ah davvero? lol dragon ball dragon ball io il dragon ball l'ho guardato poco trono di spade cioè è troppo bella come serie davvero ragazzi io cioè in realtà lo so che molte persone veramente non vedono allora wow nuova puntata di trono di spade io veramente boh io per lavoro ho dovuto comprare lomen portati lomen? ma lomen non è quel cubo bestione ho visto con magari mi sto sbagliando con un altro però ovviamente si breaking bad ok medical soul ce l'ho anch'io the walking dead no mi manca dragon ball dragon ball vabbè le grand tour ok ovviamente ormai ha tante roba profarmi lol e poi anche ho il dito di desire giustamente giustamente ho visto che ha ripreso lomeno leggi il messaggio su steam lol ho paura ok ho letto ho paura però ho letto prendi il macbook 12 per l'università il montaggio è perfetto è ma un 12 io volevo il 15 poi voglio il pro io e il pro sono 2000 e passa euro per prenderlo con delle caratteristiche buone invece con l'xps 1400 mi prendo già un signor portatile in più con premiere è poco ottimizzato ios cioè non è è anche ios forse per il computer comunque ci siamo capiti il sistema operativo apple con premiere è poco ottimizzato con il resto della suite adobe va facintile ma con premiere no da quel che ho visto dai test quindi sarebbe quello che utilizzerei di più forse non so ancora come è nato il nome pro farming all'inizio pro farming ragazzi doveva essere una mappa che io stavo sviluppando prima di iniziare a far video su youtube doveva essere la pro farming map per il 2013 perché nel 2011 c'era stata la pro farm che era un dlc tra l'altro non fatto dalla giants è stata l'unico anno in cui è stata possibile una cosa del genere e comunque fatto sta che appunto io nel 2013 allora ho iniziato a fare una mappa partivo dalla base della mappa di farmi seguito il 2009 ma la miglioravo e l'avevo messa nel 13 tra l'altro penso di avercela ancora poi ho iniziato a fare video su youtube dovevo scegliere il nome per una serie e gli ho dato quel nome visto che la mappa non la continuavo via un f2 dovrebbe mostrare gli fps cosa ragazzi se non esce l'aggiornamento proprio adesso mi pare che ieri sera non c'era c'era ancora quello della l'altro quello della semi qui non lo so come è andata la formula 1 che non l'ho vista malissimo per le ferrari che hanno fatto incidente alla prima curva anzi ancora nel rettilineo alla partenza insieme a verstappen primo a hamilton secondo ricciardo terzo bottas ragazzi per chi mi invia le richieste dell'amicizia su steam li accetto però magari una volta alla settimana cosa del genere perché devo proprio andare lì ho la lista di 20-30 persone da accettare li accetto volentieri l'unica cosa non spammate allora c'è una domanda che io non capisco aggro stai registrando di solito mi arriva sempre questa domanda qua no ora ci sono due possibilità mi vedi in farmland o sto registrando o non sto registrando se non sto registrando cosa faccio ti rispondo no e tu mi dici ah ok se sto registrando secondo te ti rispondo e vabbè comunque quanto gioca quanto costa il gioco su steam o di cosa aspetta wait ho mica visto allora prova Brooklyn 99 una bellissima serie se hai tempo ti consiglio di guardare ah di cosa parla ah che settaggi usi su farming la tua è la 780 da 3 giga si è la 780 da 3 giga la tengo senza overclock per adesso e settaggi utilizzo tutto il massimo tranne l'anti-aliasing che purtroppo devo tenerlo a zero per OBS perché altrimenti va in conflitto con OBS e non mi registra il gioco cioè si potrebbe registrare lo stesso in realtà perché puoi usare cattura schermo al posto di cattura gioco però è scomodo perché non posso uscire sul desktop per solite cose cerca un clevo almeno ti puoi scendere i componenti li distribuiscono già a diversi assemblatori io ho preso un 770 HQ 1 tera di hard disk 8 giga di ram e 1050 circa 900 euro sì io eviterei l'hard disk cioè la mia idea ormai ho visto che si stanno abbassando i prezzi degli hard disk esterni in media quindi la mia idea al momento era mi prendo un buon ssd magari da mezzo g da mezzo tera per i computer e poi stop il resto faccio tutto comprandomi all'evenienza cosa è successo qua probabilmente è lo stress della live ragazzi ho iniziato a spellare su un braccio completamente a caso cioè oggi sono stato al chiuso ho iniziato a spellare comunque stavo dicendo che che ah sì ecco che poi pensavo appunto di gestirla con i vari ssd hard disk esterni per lo storage di cose importanti ecco quanti teraflops ha la tua 780 non ho idea a memoria sinceramente se vai a vedere le specifiche comunque cerchi la asus la versione direct siu o si siu 2 comunque si la classica asus direct siu parla di alcuni investigatori che sono quotidianamente chiamati a riso da numerosi casi strani proclin 99 ok te l'ho presente te l'ho presente da me da me sta diluviano da me no no tra l'altro ci sono pochissime nuve ottimo 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 vediamo un attimo cos'è che c'è se c'è scritto cos'è qua nel senso che se premi f2 sulla trastiera ti mostra quanti fps fai ah penso che tu stia parlando con qualcun altro comunque per la modalità sviluppatore ragazzi ho fatto anche un tutorial se vi serve l'ho fatto per il 15 ma adesso non cambia nulla ah però preferisci mettere o Raikkonen l'anno scorso ti favore Raikkonen perché mi sembrava più costante quest'anno sembra invece che ormai rischi poco e ha messo in luce che non è un discorso di macchina l'anno scorso io pensavo fosse un discorso di macchina no? ho detto che la macchina va così così Raikkonen comunque se la cava quest'anno invece che la macchina è più competitiva e ce l'hanno uguale tutte e due in teoria a parte gli assetti forse si nota proprio come Raikkonen faccia un po' più di difficoltà di solito non so se proprio il suo team perché immagino dovrebbe avere l'ingegnere separato il suo ingegnere separato comunque io al momento tutti i fuventali sinceramente avevo iniziato con era dentro uno dei gruppi come si chiamava Sesso Vodka e Kimi Raikkonen qualcosa del genere che è un gruppo abbastanza famoso una pagina Facebook e quindi lì lo idolatravano tutti l'anno scorso quest'anno invece la situazione è un po' cambiata più che altro pare il personaggio che in realtà non mi piace tanto perché sembra sempre incavolato anche quando vince tipo anche oggi oggi era molto più incavolato Vettel rispetto a Raikkonen non ho ben capito come mai cioè io mi aspettavo tipo che Raikkonen fosse cazzatissimo invece no fermo come al solito vabbè Agro ma in questa puntata raccoglierai solo balle chiede Danila Avanzi che immagino sia tua madre o tua sorella cosa del genere perché di solito qua la maggioranza l'85% del canale sono maschi quindi in mezzo a quel 15% è pieno di profili di mamme di ragazzi che usano il profilo delle mamme quindi comunque non lo so no cioè devo finire di raccoglierle poi dopo facciamo qualcos'altro ma abbiamo ancora un'oretta davanti quindi c'è tutto se mi è andato alla fiera di Montichiari sì ma non quella agricola sono andato tre anni penso a quella dell'elettronica farei un tutorial su come installare il cosplay se serve ma pensavo fosse abbastanza easy diciamo non lo so in realtà perché Recon è senza cuore esatto ma Italian Farm deve uscire la Deterra Italica versione 2 e oltre a quello che tra l'altro sembra che io lo faccia apposta perché avevo promesso che avrei iniziato Italian Farm con la Deterra Italica esce la Deterra Italica e poi alla fine ho detto aspetta la V2 ma perché non mi aspettavo tutti quei bug giuro 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 che avrei voluto iniziare anche perché per me è molto meglio se faccio la Deterra cioè sarebbe stato molto meglio se avessi fatto la Deterra Italica quest'estate perché c'è l'Italian Farm è una serie molto seguita adesso che abbiamo ancora più iscritti sarebbe stata ancora più seguita e bla 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 solite cose quindi dispiace più a me che a voi state tranquilli comunque ma questa live verrà ricaricata sì per quello è abbastanza normale i finlandesi sì per carità sì se guardi anche Bottas però dai anche nel rally i finlandesi sono quasi tutti senza emozioni gelati gli hanno gelato i sentimenti che c'è di finlandesi aspetta Latvala se non sbaglio e poi che corre ancora attualmente non mi ricordo scusate 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 pardon ok allora ti consiglio ai zombie come si è più sta su Netflix oh rally come mai 12 ore di live in che senso c'è dici perché ho deciso di farla così lunga per festeggiare perché siamo arrivati ai 15.000 iscritti perché a breve il canale cambierà perché siamo arrivati a alla fine praticamente alla fine di pro farming perché siamo abbiamo superato i 4.000 su Instagram perché abbiamo superato i 5.000 su Facebook tantissime cose quindi ci stava e perché probabilmente non avrò mai più l'occasione di farne una da 12 ore cioè occasione sì ma non avrò più la voglia diciamolo fatta oggi e basta eccolo Fabio questa mappa dove si trova non mi ricordo se c'è anche sul mod hub comunque nel caso l'ho trovato su FSUK che è un sito che consiglio tutti voi se volete vedere altri mod in stile inglese giustamente come dice il nome FSUK parlo anche di rally minore tipo europeo italiano e robette varie ah io non seguo tanto tipo l'IRC e tutto il resto agro scusa ma come si ripristina farming basta che disinstalli e reinstalli il gioco se intendi quello non so cosa intendi tu per ripristinare non penso tu intendi a ripristinare il mezzo perché altrimenti basta andare a fare esche bla 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 anche suninen finlandese corre per forza vrc tra l'altro non ho neanche sentito suninen sinceramente vado a mangiare ciao buon appetito tagliamo manamente ok abbiamo quasi finito ragazzi con le balle ci siamo penso che questo carico non sarà neanche pieno immagino potremo far preparazione del terreno oppure vedere cos'altro c'è da fare adesso vediamo ragazzi che altro sento anche voi arriva Stefano Verzeletti bella raga 130 martingherix lanciatissimo ok figlia guarda questo campo è più bello comunque cioè l'hanno fatta bene questa mappa mi piace tutte ste colline fatte wow figo agro ma tu hai mangiato nella pausa tra american track e grass master ho mangiato uno yogurt agro pesa tanto questa mappa dal punto di vista grafico ad occhio no vedi che registrando streamando in live con le mod sopra sto facendo ah voi non lo vedete comunque sto facendo 55 giù di lì fps quindi direi che ah oddio ti ho fatto la moneta sviluppo però così comunque c'è no ad occhio non mi sembra ovvio che sia un portatilino forse ce ne sono di più leggere ma non è neanche così estrema agro ti piacciono le jimkana tipo cioè come sport o i video di Ken Block comunque sì nel caso comunque tutte e due agro lì dalle tue parti non passare al rally delle valle cinesi sì è stato ieri e anche no ieri si è già concluso ha vinto Gino ha vinto Gino sì sì comunque passa fanno i trasferimenti qua vicino e ho una prova speciale a 10 km giù di lì se non l'ha cambiata sì comunque c'è il rally delle valle cinesi tra l'altro Gino ha vinto in casa finalmente perché erano anni che continuava a correre e arrivava sempre secondo o terzo ricordo che ci sono stati un po' di anni che ha dominato Sosella e poi Boo sono andato in Inghilterra quest'estate e ho visto molti Zetor e MF Zetor? Zetor in Inghilterra non pensavo sai il nome di questa mappa? Colbrrrr oh 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 sto guidando male ok Fagri non ho Fiatagri ma giù sia non ho una marca preferita cioè ovvio il 180-90 rimane lì nell'orinfo ma non ci sono veri motivi per cui mi piace è proprio perché è il 180-90 cioè questa è la risposta però non ho una marca preferita cioè veramente non riesco proprio a capire boh sarà che non l'ho mai guidato però c'è gente che dico solo ah questa marca fa solo cosa ti dica wow 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 e compra solo quelle e dice che quelle sono solo i migliori io invece veramente mi piace che ne so mi piace questo mi piace l'altro c'è quell'altro che fa proprio schifo e così via ma boh non lo so non ne ho una preferita secondo te uscirà la lettera italica su PS4 ma avevo letto qualche rumor ma no 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 ecco no avevo parlato con Sukas che non l'ha detto difficilmente perché ci sono delle funzioni particolari della mappa che non sono supportate dalla Playstation delle console grande Gino mi dispiace non essere potuto andarci ma sei di queste zone ma si beh buon Giovanni mi immagino Gino tra l'altro non mi ricordo cos'è adesso ancora con la mini no forse quest'anno c'è la fiesta non ricordo sinceramente ok ragazzi abbiamo finito di raccogliere le balle cosa facciamo vi propongo preparazione del terreno oppure aspettate andiamo a vedere una cosa devo controllare una cosetta possiamo sfalciare un po' d'erba fare un po' di finagione ancora trebiare che non sarebbe male così liberiamo qualche campo trinciato avevamo già detto no basta preparazione del terreno ve l'ho già detto qua giù è ancora da raccogliere ah no alla fine forse avevo raccolto ah no sarebbe ancora da raccogliere qua ci sarebbe in teoria perché ci sono delle ballette ah perché ero venuto a provare la è vero ero venuto a provare le ballatrici di qua comunque ditemi voi ragazzi così che volete vedere cose che magari vi hanno già visto e poi al massimo la preparazione del terreno eviterei di fare cose che non abbiamo mai visto che le riserviamo agli episodi e come si fa a disinstallare scusami sono ignorati in materia allora per disinstallare farming devi andare in basso a sinistra si su windows immagino in basso a sinistra c'è il tasto start tu clicchi e scrivi nella barra di ricerca disinstalla programmi come risultati dovrebbe venirti in base a che versione di windows hai comunque dovrebbe venirti fuori pannello di controllo e gestione dei programmi funzionalità tu apri lì ci dovrebbe essere poi un elenco e da quell'elenco ti cerchi farming simulator doppio clic sopra ti chiede vuoi disinstallarlo e come l'hai installato lo disinstalli trebbiare trebbiare silvicoltura che proprio no ma per la terra italica ho già risposto prima per me va bene tutto trebbiare trebbiare il fordone catrancrops daz 20 lo faccio fra 40 minuti non togliamo anche perché sennò poi devo stare un'ora e 40 su catrancrops calma calma ah trebbiamo ragazzi trebbiamo trebbiamo vediamo un po' che trebbiaccio che trebbiaccio sbagliato no ok vediamo un po' se ci tocca qualcosa di standard o allora avrei questa però solo la 777 cos'è tipo la cos'è la dark polo gang io la voglio prendere solo per capire voglio capire solo per capire ragazzi allora questa è giusto per capire i cavalli 7x6 ah no il design ok vabbè proviamo 777 777 proviamo tac andiamo a vedere la barra che cos'ho su catrancrops ci saranno i mucchi come in fs16 in teoria si sarebbe un po' un problema se non li mettessero ok cos'è un design ah bo 777 proprio così l'hanno editato dark polo gang yo yo bufu va bene ragazzi arriviamo arriviamo alla trebia della dpg va bene 439.000 euro di rodo la domanda è come farò ad uscire da qua boh proviamo 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 ce la potremmo fare forse Simone sappi che ho letto il tuo commento mi ha fatto ridere ma al momento non posso sbloccarti perché ci sono sti collision vabbè compriamo un po' non sei stanco di fare live dopo 10 ore e 30 si però è una sfida è come dire ha un maratonetta che ha non lo so ha già fatto l'80% di una maratona e dici non sei stanco perché continui a correre perché devi arrivare alla fine è anche una sfida personale veramente sono una di quelle cose che non so se ne andrò fiero ma mi piacerebbe raccontare i miei film in futuro e io avevo un canale youtube addirittura una volta ho fatto una live dal 12 poi mi sento anche un po' più uno youtuber grande no sapete quando ho aperto il canale era ancora il periodo in cui andava molto forte Luke 4316 che adesso un po' rispetto ad altri canali ha perso un pochino e c'era Luke che si faceva dei live da 24 ore ste cose poi rimontava ricaricava i video da 12 ore roba del genere proprio da dire ma che cavolo comunque fatto sta ragazzi che era da un po' che pensavo di far sta da 12 ore quindi mi fa sentire un po' tra i bic il fatto di farne una anche se su youtube forse non è il posto youtube forse non è il posto migliore per farla perché twitch forse su twitch trovi di più live 12 ore per esempio vi ho già detto io seguo marcus cron e marcus cron ne fa una al mese da 12 ore ma quello è il suo lavoro lui può permetterselo anch'io se potessi se facessi lo youtuber di lavoro probabilmente comunque ma che sfida è wow mio figlio ho fatto una live da 12 ore dove fingevo di prebiare i campi e posso farlo nella realtà il fatto è che io non ho campi nella realtà il fatto di parlare intrattenere per 12 ore prepararsi organizzare il tutto questa è la vera capacità e non capisco la gente come te che non prende sul serio sta cosa comunque va bene ognuno la può pensare come vuole agro secondo te ne vale la pena comprare ah il dlc gold ops ah danni su danni ragazzi danni su danni ma qua le siepi aspettate perché forse qua c'erano le siepi senza colline vediamo se ci sono ancora volevo rispondere ah si dlc giusto mi hai chiesto finchè non lo provo non ti posso dire sinceramente evito di aprire bocca se fossi su console si altrimenti no a meno che tu non vuole provare con cioè io personalmente non facessi lo youtuber non la comprirei sinceramente il dlc con il dlc non lo comprirei perché la barra non me la fa passare cioè mi fa passare tutto il resto la barra no questa è una bella barra sapete che faccio faccio una cosa del genere agro non ti si è seccata la gola si sono già questa è la mia terza bottiglia da un litro e mezzo si vabbè ma ci sono giochi migliori con cui puoi sfidarti a stare in live 12 ore sicuro però il mio canale cosa tratta fatto sta che per quanto mi riguarda mi basta questo voilà andiamo avanti se il gioco non ti piace perché stai guardando il video no vabbè cioè io ho sentito appunto c'è un adesso non so se non penso se penso che tu abbia un altro account c'è uno di uno che mi segue dagli albori tipo quando non avevo neanche mille iscritti che in effetti mi ha contestato questa cosa dell'adolescione sono detto ma tu fai video sei maggiormente seguito da ragazzini fai video di agricoltura dove il bello dell'agricoltura è stare all'aria aperta perché ti vanti di fare una live di 12 ore dove rimani chiuso in casa per 12 ore in parte è vero la realtà è che questo è il mio lavoro e la realtà è che tante persone ringraziando ah devo comprare il campo magari hanno iniziato ad amare l'agricoltura anche grazie a me non saranno la maggioranza del canale ma alcuni si in più appunto è un modo di festeggiare quindi per quanto mi riguarda quindi diciamo che il fatto di fare una live così lunga posso capire che tiri superplessità poi era una battuta il discorso con mio figlio ovvio che non farò veramente però sinceramente sì ne vado abbastanza fiero di tutta questa cosa di youtube il gioco non mi piace per 12 ore ma infatti guarda che c'è sotto tutto ciò e abbiamo già cambiato un sacco di giochi questo è tipo il settimo gioco diverso cioè la settima ambientazione diversa che facciamo o il sesto perché qui di mezzo c'era la formula 1 cioè non sto facendo farming da 12 ore non so se l'hai capito Paolo comunque va bene le grandi soluzioni di Acco comunque leggiamo un po' chi ha vinto la tua maglietta che mi sono perso del momento ha vinta Luca dalla valle qualcosa del genere se mi sbaglio stai facendo la cosa che faccio io di solito quando non ci passo ma il fatto è che è troppo stretto qua cioè normalmente non dovresti usare una trebia così grossa ma visto che non ne ho di altre nel pacchetto siamo passati da domande random a domande sul cosa ne pensi del fan cingolato alla domanda ehi ma sei stacco? ok andiamo avanti quella live viene ricaricata sì ragazzi quando ho fai trinciato l'ho fatto dalle 4 e mezza fino alle 6 e mezza the best friend Filippo in breve abbiamo giocato construction simulator e abbiamo costruito un palazzo quasi poi siamo passati a Eurotrack abbiamo fatto tre quarti di un viaggio abbastanza lungo poi dopo minecraft abbiamo abbellito la farm di grano poi siamo passati a commentare la gara di formula 1 poi abbiamo fatto le estazioni della maglietta dopodichè abbiamo giocato a pro farming in pro farming abbiamo fatto il trinciato per il biogas poi dopo siamo passati ad American Truck Simulator abbiamo fatto un viaggetto 2 in multiplayer e ora siamo qui stiamo finendo di fare lavoretti così e dopo passiamo a Ketone Crops proviamo le novità della nuova beta arriviamo perfetto tra l'altro mi hanno finalmente abilitato un filtro decente dei commenti quindi alcuni commenti li sta bloccando e sono un po' contento potresti anche fare la stessa cosa con lo stile italiano si pensavo cioè se dovessi fare Italian Farm penso che la farò in quello stile lì adesso devo vedere i presi stranieri ci conoscono per Berlusconi pizza e pro farming e ormai si 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 Berlusconi pizza e pro farming lol hai cenato? no niente cena per me Giuseppe era il primo offenda comprato in pro farming cosa ha chiesto Giuseppe ma scusa la domanda mi pare impossibile hai fatto 10 ore di pc Filippo ah no cavolo a parte il fatto che c'è qualcuno tra di loro che mi ha visto che mi ha visto se vai nelle impostazioni di youtube puoi vedere benissimo sono in live da stamattina si comunque 10 ore e 30 si Grassmaster l'unica cosa con cui potrei avere avuto dei problemi è formula 1 non l'ho registrata e American Track Simulator mi sono accorto che ho iniziato a registrare solo tipo l'ultimo viaggetto che abbiamo fatto comunque vabbè al massimo lo caricherò più comunque siamo davvero siamo a questo livello allora per me è già una soddisfazione il fatto che ci sia gente che ci cade da chi non lo possa fare ok adesso magari lo mettiamo in in automatico ragazzi ma Kettering Crops cosa si può provare mi sto già iniziando ad impappinare no buono no buono comunque si può provare aratura erpicatura semina eroratura liquamatura e basta per adesso ok vediamo un po' che cosa ci pigliamo tipo molto molto ignorante inglese un Ford andiamo di Ford ragazzi non ho il 35 eh vabbè ah si ce l'ho il 35 eccolo qua mi piacciono più le ruote 65 ok no prendiamolo scura 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 griglie scure compra vediamo un po' che carri ho messo so 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 che potremmo utilizzare non voglio farvi spoiler però mi tocca allora vediamo un po' potrebbe aver senso qualcosa di un po' più vecchiotto vediamo se ce l'ho se lo andiamo con il cube trailer questo tiene troppo poco lo smith non me lo vedo molto bene attaccato prendiamo il redrock ragazzi compra voilà sai chi è Antonio Carrioli? si non lo seguo la moto non seguo la moto gp sinceramente si il mondiale motocross però si so chi è anche perché appunto è una passione tra i giovani è una passione molto comune quindi in realtà io non puoi proprio non conoscerlo se è la mia età praticamente adesso è il periodo in cui ehi ma nessuno parla di me ho vinto di nuovo che arriva tutti gli anni comunque parte da comute comunque 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 si so chi è so chi è ciao cosa mi sono perso il grassmaster abbiamo raccolto balle ne abbiamo finito di trinciare adesso stiamo trabbiando cos'è colza 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 così colza prontati